Una favola sportiva, quella di Gianmarco Tamberi, da raccontare ai posteri, non solo perché il saltatore d'oro di Tokyo 2021 è riuscito a riprendersi dopo l'infortunio che cinque anni fa gli aveva legato agli Olimpiadi di Rio, ma anche per il suo carattere eclettico, a volte ai limiti della guasconeria, ma capace di farsi amare anche degli avversari. Il ritratto di un campione che non finisce qui, anzi scavandosi scopre uno sportivo trasversale, appassionato a molte discipline, su tutte forse il basket. Vedere per credere. È una malattia perché è una di quelle cose che non passa mai, è un qualcosa morboso. Io dovrei essere un atleta professionista e dovrei fare il mio sport, ma mi ritrovo sempre con le scarpe da basket e con una palla in mano. È un qualcosa che non si riesce a fare a meno. E la curiosità è che di mezzo c'è proprio la Toscana, dove Gimbo nel settembre 2017 finì per allenarsi con la men sana Siena, arrivando a disputare anche un amichevole precampionato in maglia bianco-verde, quella contro un'altra Toscana, l'allora The Flex Pistoia, che militava nella massima serie della palla a canestro. Al tempo la gloriosa società cestistica militava in A2 e il legame fu possibile tramite il tesseramento voluto dall'allora presidente Guido Bagatta, proprio lui il giornalista che ne prese le redini dopo il fallimento. Quando mi ha chiamato non ho esistato un secondo nel dire sì, anzi forse ho detto aspetta un secondo che smetto di ridere e ti richiamo, se c'è caso che già sarò in macchina per venire a Siena, ti prego non cambiare idea. Per il coach del tempo Gruccioli fu insolito, ma in quanto assalti e altezze il ragazzo sapeva già il fatto suo e l'adattamento fu tutt'altro che problematico.